Immagini del 2020, ma che di fatto si ripetono da millenni, testimoniano il rito della benedizione delle candele nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Sono il simbolo della luce di Cristo che illumina le genti, ma che da sempre, forse anche con un pizzico di superstizione, da generazioni vengono utilizzate contro i mali della gola, ma soprattutto accese per bruciare l'ulivo benedetto e tenere lontane fulgure e tempestate, come prescriveva il rito che si consumava nelle case contadine. Ma oggi, nell'era digitale dell'intelligenza artificiale, questi gesti rischiano di passare per arcaici e senza più senso. Un dubbio al quale Don Adelino Bortoluzzi risponde così. La Chiesa ci annuncia che c'è una luce di speranza sul mondo. La candelora vuol dire questo, portare nelle famiglie una candela e accenderla per chiedere al Signore che, nei momenti bui e difficili della nostra vita, come quelli che stiamo vivendo adesso, il Signore possa essere luce e speranza. E se un tempo erano i fulmini e la grandine, nella riflessione di Don Adelino, ora il buio sono le guerre, i genocidi, gli esodi, ma anche i femminicidi, la violenza tra i giovani, le separazioni, i divorzi, la solitudine degli anziani. Ecco perché ancora oggi serve questa luce. Se noi ascoltiamo in profondità noi stessi e ciò che lo Spirito ci dice, ritroveremo sempre la forza di camminare e di andare avanti. Questo è il senso della candelora. Ecco, e allora perché tenersi questa candela ancora in casa? Perché noi non siamo solo intelligenza, ma siamo anche cuore, affetti, e la candela è un simbolo forte che parla a tutta la nostra persona. Grazie a tutti.